ciao a tutti oggi è domenica 3 dicembre 2023 è una bellissima giornata anche se c'è un po freddo e volevo farvi un po riepilogo di come vanno le semine e l'orto invernale allora nei mesi scorsi ho seminato diverse cose allora la lattuga la sant'anna poi una lattuga che mi aveva dato Filippo un mio amico del gruppo e poi ho degli spinaci che mi ha dato Andrea e poi ho diversi tipi di cipolle ci sono quelle da l'ife poi ci sono quelle la dorata di Parma e poi ce n'è un tipo rosso toscano invernale la chiamavano la semenza sono state queste qua sono tutte semenze che ho raccolto io dai bulbi che ho messo a dimora l'anno scorso e le ho seminate in due volte queste e poi ci sono queste qui queste qui in realtà sono delle la rimanenza delle bustine che aveva mandato Alessandro l'anno scorso dal progetto sul valentà sementiera e questa è la prima semina e la seconda è questa sono tre tre dieci sono tre cinque sette scusate sette sette vaschette e sono praticamente una due tre quattro tre di cipolle sicura una lattuga di Filippo una lattuga Sant'Anna delle erbette ci sono lì che aveva un sacco di semenza e sta nascendo e adesso queste qua sono quasi pronte da ripicchettare adesso valuto un po' se farlo adesso aspettare qualche settimana adesso quando ho tempo lo faccio li tengo sotto questa serretta qui fai da te che ho fatto il video di come l'ho fatta poi adesso l'ho aperta per farvi vedere adesso abbasso questo così la tengo chiusa così tiene un po' la temperatura dopo metto questi questi sassi qua su questi due qui vanno così servono da tenditori diciamo per tenere un po' da che non si muova meno così poi magari metto dei metto dei mattoni sotto in modo che la tengono chiusa questa qua quando è aperta ne ho tre ne ho allora adesso vi faccio vedere un po' come vanno le varie cose nell'orto allora qui ho i carciofi carciofo bianco di Pertosa credo che sia li ho presi in Calabria ho preso gli ovuli e poi li ho messi l'anno scorso e secondo l'anno qua ho buttato un po' di cenere ma proprio una spolverata che ce n'avevo nella stufa non sapevo dove buttarla l'ho messo buttata qui di fianco ma proprio una spolverata adesso vediamo come resistono l'anno scorso ho resistito bene al gelo adesso vediamo quest'anno se fa più o meno freddo poi Allora vabbè qui avevo non mi ricordo se avevo il mais tipo l'ho tolto questi sono i cavoli li ho seminati tardi e ho messo le piantine tali perché non erano venute belle c'è del cavolo ne ho già stato raccolto poi c'è del delle verza violacea poi c'è del Dei broccoli ci sono un sacco di cavolari c'è qualche finocchio con tutte se su tutte piantine che che abbiamo fatto io da veronica e queste con questo qua avete le cavolari le ha proprio distrutte e qui ci sono ce n'è diciamo una fila da 50 metri circa non sono non è tutta piena perché alcune sono rimaste piccole possono sono indietro quest'anno perché c'è stato molto caldo e l'olio messa di mola tardi spero che riescano a fare qualcosa magari broccoli riescono le verze la vedo due però vabbè ci abbiamo provato anche i finocchi non sono tanto belli cioè sembra che ci abbiano una grande una parte ma sono un po' più fan ridere il cavolo nero bene o male viene sempre e queste sono le piantine che abbiamo che ho messo a cosa sarebbe messa settembre fine agosto inizio settembre poi qua invece ho passato la terra circa tre settimane fa e ho messo e ho messo le cipolle che mi stavano andando di semenza da fare i cipollotti questa questa primavera che sono queste qua qua in mezzo ho messo l'aglione della valdichiana che avevo preso un po' di bulbe che costano come l'oro l'ho preso due anni fa le ho seminate l'anno scorso quest'anno ne sono venute abbastanza non ne ho mangiato neanche uno spicchio adesso ne ho messo giù tipo 35-40 metri e ho fatto due file qua c'è l'aglione e qui ci sono i bulbi delle cipolle da mangiare i cipollotti poi qua invece ho fatto delle file che ci ho seminato dell'insalata che forse sta venendo adesso ma non si vede niente non mi ricordo no forse all'inizio ho messo dei radichi che avevo delle bustine qua dell'insalata l'insalata sta venendo la semenza non era abbastanza buona era della mia infatti ne è volata appena qua si vede poi ho messo della rucola tutte le semi che avevo un po' di quella di Filippo questa qua non so se è rucola forse sembra di sì dalla foglia la rucola è venuta la semenza mia raccolta da me è venuta bellissima e adesso vediamo cosa ne esce poi invece nella fila qui di fianco adesso vi faccio vedere ho le cime di rap le ho raccolte anche oggi le sto cucinando sulla vaporiera che le voglio far fuori tutte le ho raccolte tutte adesso le sto cucinando poi le metto nel frigo un attimo poi le congelo le metto in frizz così dopo ce li ho da mangiare io le cuocio il vapore perché si fa prima non c'è bisogno di stare lì a guardarle uno accende la vaporiera e via invece qua ho messo le fave tre file no due una lì una qua e in mezzo ho messo delle erbette delle coste che avevo un sacco di semenza ma forse sta nascendo qualcosina sta nascendo delle coste avevo quintali di semenza le fave stanno cominciando a venire questa qua sembra una fava adesso pian pianino vengono anche le fa anche questa qua forse infatti sta cominciando a facciarsi adesso questa qua questa adesso pian pianino vengono e qui ne ho fatti i fili in fondo quindi due file di fave da 50 metri una fila di erbetta da una cinquantina di metri perché sono filari da 50 questi e poi ho i radicchi ma non ve li faccio vedere perché ce li ho in pieno campo nei video precedenti trovate il video di quando li avevo fatti vedere dopo che li ho seminati li ho seminati in un campo là dietro con la seminatrice quando mio fratello ha messo l'erba medica sono passato con la seminatrice o quella della Bassi con il disco apposito ho messo la semenza del radicchio e l'ho seminato a file li ho raccolti anche prima sono belli e qua c'ho i topinambo non li ho ancora raccolti li lascio in terra sono qua sotto guardate che belli adesso dopo li devo raccogliere sono enormi perché sennò quei topi del cavolo me li cominciano a mangiare infatti devo tenerti d'occhio perché infatti adesso quando ho due secondi li vengo a raccogliere perché sennò i topi le arvicole me li mangiano tutti infatti questi qua li avevo seminati l'anno scorso una buona parte me li ho mangiati e poi li ho messi anche dall'altra parte adesso li devo raccogliere quando ho minuto e li raccolgo poi li metto in un cassone di terra che ho là un cassone rialzato chiuso sotto pieno di terra se no così le arvicole non ci vanno non me li mangiano e così riesco a salvarle poi man mano man mano li pulisco e li faccio il forno poche la volta perché hanno delle controindicazioni topinambu importanti perché fanno fare molta aria quindi non bisogna mai esagerare e poi non è facile digerirle se uno ne mangia molti e questo è un po' è tutto è tutta la parte dell'orto invernale la vigna è ferma dopo la poteremo poterò alla fine di gennaio inizio di febbraio faremo un corso qui a Parma gratuito aperto a tutti per far vedere un po' la potatura delle viti poi ne faremo un altro per far vedere la potatura delle piante da frutto sicuro quando ce l'ha da potare in primavera quando andremo a potare le piante questo qua meno come potare poi ne faremo sicuramente uno per gli innesti e poi se c'è adesione ne faremo ne volevamo fare anche uno per quanto riguarda l'orto proprio base base per chi vuole avvicinarsi a questo mondo per far vedere un po' preparare un po' dell'orto come gestirlo le semine a me piaceva farne uno magari per far vedere come fare un germinatoio in polistirolo come io è un po' una cosa un po' 360 gradi sempre aperta a tutti gratuita per chi abita qui nella zona di Parma e poi facciamo il video come abbiamo fatto per i lamponi e poi lo mettiamo su youtube così lo possono vedere tutti se siete interessati a questi corsi adesso vi lascio il mio contatto quello di Dario di Telega scriveteci pure che ci organizziamo via siamo disposti volentieri a fare dei corsi gratuiti tanto abbiamo tempo questo inverno li facciamo volentieri per diffondere il sapere quindi nient'altro io vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao 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 ciao